Bisogna stare molto attenti a tapparsi le orecchie. Questo è un governo che oltre a reddito di cittadinanza, a quota 100, farà 133 miliardi nel DEF di nuove spese. 133 miliardi. E pagheremo tutto il conto. Pensate, sta nazionalizzando l'Italia e lo metterà nella bolletta elettrica. Quella bolletta elettrica che Salvini diceva di voler tagliare insieme alle accise. Io non credo, io credo che gli italiani siano persone serie. E credo che giudicheranno sulla base di quello che si è fatto. E credo che questo governo non ha fatto veramente niente. E quello che ha fatto l'ha fatto male ed è pericoloso. Che cosa significa, spieghiamo, nazionalizzare all'Italia? Perché quando si pensa all'Italia si pensa sempre a un carrozzone salvato, no? L'Italia nazionalizzarla vuol dire che il prestito ponte che era stato fatto dal nostro governo a condizione che l'Italia venisse venduta. E c'erano tre offerte, una delle quali ottima di luftanza, che manteneva la marchio, le rotte. Certo, levava un po' di dipendenti, ma sarebbe stato meglio pagare i dipendenti per andarsene che buttare 8 miliardi fino a oggi abbiamo buttato. E invece quello che hanno fatto loro, avendo perso questi acquirenti, è dire lo ridiamo al Ministero dell'Economia e Finanza, alle ferrovie dello Stato, tutta roba che già fatica a funzionare. E quindi ci prepariamo a 900 milioni e li metteremo lì dentro. E quello li metteranno lì dentro. E in più ci prepareremo a spendere altri miliardi. È una follia, non ha nessun senso. Io non l'ho fatta fallire all'Italia, forse è stato un errore. Perché avrei dovuto ripagare tutti i biglietti dei viaggiatori e quindi sarebbe costato tantissimo, più che prestargli dei soldi. Però ho sempre detto, mai la nazionalizzazione, e si vendesse questa compagnia. E invece loro hanno deciso di fare questo. Cosa ha a che fare con la rappresentanza del mondo produttivo? Quindi pagheremo anche questo, i prossimi miliardi sull'Italia. All'Italia e Trenitalia. Sì, ma appunto, già noi abbiamo il problema che chi prende il treno sa che ultimamente è molto peggiorato, ci sono problemi sulla rete continua, eccetera. Ma che si mettono a fare anche gli aerei? Ma che senso ha? Si vede che sia Salvini che Di Maio in vita loro non hanno mai lavorato nel mondo reale. Hanno solo fatto politica e chiacchiere. È scontato l'aumento dell'IVA? Ma certo che è scontato e non basterà. Se voi prendete l'aumento dell'IVA e mettete insieme la mancata crescita che ci sarà, il governo, ve lo ricordate, hanno bellissimo il 2%, l'1,5%, finiremo a meno 0,5%. Se mettete insieme queste due cose stiamo parlando di 40 miliardi di euro. E l'IVA, i 23 miliardi di IVA, se li mettono, il prossimo anno l'Italia crescerà a meno 1,5%. È un disastro. O fanno quello e disastrano l'economia o fanno il deficit e mandano tutto fuori controllo e c'è il rischio che risalti lo spread e tutto. Molto banalmente io penso che oggi c'è un mondo che non è rappresentato che è quello dell'Italia che studia, lavora, produce. Un'Italia seria. E penso che quest'Italia meriti una rappresentanza seria cioè persone che vanno banalmente a lavorare a Bruxelles e fanno le cose che vanno fatte a Bruxelles. In particolare penso che ci vuole una grande politica industriale e sociale che è mancata. Noi dobbiamo far ripartire gli investimenti perché solo attraverso gli investimenti noi abbiamo preoccupazione e possiamo evitare la cosa che è più devastante di tutti cioè i giovani che partono. E anche gestire l'immigrazione perché è chiaro, e anche qui è importante dirlo che i confini dell'Italia non possono essere aperti a chiunque vuole venire. Ed è chiaro che una cosa è salvare dei naufraghi e una cosa è dire che i confini vanno tenuti aperti. Noi non l'abbiamo fatto, Miniti ha fatto un ottimo lavoro di riduzione degli sbarchi e anche migliore di Salvini nei rimpatri. Però se noi non abbiamo l'Europa non riusciremo a fare il lavoro che serve in Africa per non farli arrivare perché ci servono tantissimi soldi. Grazie. 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 Grazie.